Si continua a parlare della vicenda che coinvolge Nick Luciani, l'ex cantante dei Cugini di Campagna che ha raccontato di trovarsi in grandi difficoltà economiche. . Da qualche anno a questa parte Luciani ha deciso di intraprendere la carriera da solista per cercare di smarcarsi da quel ruolo eterno di interprete di Anima Mia, unico pezzo della storica ben costantemente richiesto nei programmi televisivi e che costituisce croce e delizia dei suoi interpreti. . 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